Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su LEGO Star Wars il risveglio della forza Perfetto ragazzi, come avete potuto vedere negli ultimi episodi che vi ho pubblicato sul canale ho iniziato a giocare le missioni extra presenti nel season pass di questo titolo Oggi ragazzi sono tornato qui perché volevo giocarne un'altra, vediamo quale possiamo fare Perfetto ragazzi, quasi quasi direi di giocare questa qua po' alla riscossa Perfetto, vediamo in che cosa consisterà questa missione extra Ok, come sempre di sottofondo hanno messo la fantastica musica di Star Wars che non posso farvi ascoltare perché per questioni di copyright rischio che mi segnalino il video e me lo blocchino Po' alla riscossa, il coraggioso movimento della resistenza è in difficoltà nella sua valorosa lotta contro il temuto primo ordine Vediamo che cosa scrivono ancora Senza sapere che il primo ordine ha costruito una letale superarma, la resistenza corre in aiuto di uno dei suoi più importanti leader prigioniero a bordo di uno Star Destroyer nemico Ok, quindi probabilmente Po' è prigioniero e dobbiamo andarlo a salvare Anzi No, probabilmente non è Po' ma è un altro personaggio Non voglio dirvi chi è Voglio scoprirlo insieme a voi Però più o meno ho una mezza idea di chi potrebbe essere Adesso andremo subito a vedere di chi si tratta Perfetto ragazzi, eccoci qua Uno Star Destroyer del primo ordine Ok, infatti non è Po' il personaggio da salvare Speriamo funzioni Ammazza così, senza neanche dare precedenza Mettiamo la freccia e via Eccolo, eccolo È una trappola Per l'ultima volta L'ammiraglio Akbar Ammiraglio Akbar, sono Po' Demeron Sono qui per salvarla È una trappola Eccolo Proprio io Allora, che aspettate? Dobbiamo andarcene subito Trepio, ora Senza urlare Vai, vai Grandissimo Ce le hai sbloccate tutte Tranne l'unica che ci serviva Beh, ottimo Farlo subito no, eh Che spettacolo Ammazza, li hanno investiti Così Perfetto, possiamo scappare Meglio che non sia una trappola Ma basta È diventato famoso per quella battuta lì Le umidità superiori al 50% Gliela fanno ripetere All'infinito Fantastico Bene, che bello In realtà è un compattatore di rifiuti Allora, dobbiamo Fuggire da qui, eh Cominciamo a sparare a caso Quello sulla parete dietro è l'oblò di manutenzione Dobbiamo semplicemente raggiungerlo E poi aprirlo Ok Dobbiamo rompere questo Come pensi che dovremmo liberarci del Dayanoga Guarda Non lo so Cos'è sta roba? Cosa caspita abbiamo costruito? Ah, un pranzetto Per il mostriciattolo Vediamo se possiamo costruire Qualcos'altro No, dovevamo per forza costruire quello Allora, qui Ah, stavolta mi serve aiuto Akbar Vieni, vieni Mamma mia Ok, ce l'abbiamo fatta Che caspita è sta cosa? A che ci serve? Ok Sta tirando fuori della roba molto, molto interessante Grande Akbar Mamma mia Ok, tocca BB-8 Guardate che spettacolo Vai, vai, vai BB-8, vai Ok Perfetto Ok, allora No, di qua Perfetto Di qua Grande BB-8 Grandissimo Ha fatto l'ok Oh cacchio Beh, ottimo Hai azionato il compattatore Dove caspita è andato BB-8 Dai, in giro Quel circuito è bruciato danni per il sovraccarico Dai, tiralo giù Ok, attenzione a stiappari piccoli Ok, eliminati BB-8 scusa, fai un giro qui dentro per favore Ok, è di qua Eh, però quello non lo può azionare Però questo No, è affondato Ok, grande Lì però ci serve Akbar Niente, torniamo indietro E akbar Costruisci Questa cosa qua Bene Ci serve BB-8 Per alimentarlo però BB-8 Ci servi qua Torna un po' indietro Aspetta Ok, c'era quello da rompere Vai, ficca di dentro lì Ok Vai, dagli una bella scossettina No, 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 no Ok, in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo Ok, perfetto Colpito Grandissimo Il vantaggio di essere un mossa alla mare È che è molto difficile Ficcarci un dito in un occhio Possiamo procedere? Forse sì Ok, ho rotto tutto così Possiamo prenderci le monetine Possiamo passare di qua Vai, Akbar Grandissimo Però aspetta Fai che tornare un attimo indietro Perché ho visto qualcosa di interessante qua Ok No, non c'era niente di interessante Allora, possiamo azionare Questa leva qua Forse non siamo i primi a rimanere Ok, continua a piovere roba BB-8 Ok, per fortuna sei qua Cerca di non schiacciarci, BB-8 Allora Non troppo veloce Vai 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 Ottimo lavoro Ora dobbiamo solo capire Come portare C-3PO Allora Qui c'è qualcosa di utile Però ci serve Sempre C-3PO Che si trova insieme a Po Ok, forse ce la facciamo Ah, ok Adesso possiamo finalmente Alzare il ponte Con questa specie di ponte Perfetto Ok Questa volta lasceremo che provi tu Ad aprire la porta Con il pannello di accesso protocollare Vieni Akbar C'è una cosa interessante Da questa parte di qua Cosa caspita Sta recuperando Ah, ok Un contenuto extra Ottimo Perfetto Vai C-3PO A tutta velocità Vai, 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 vai Guardate che velocità Che velocità No, 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 no Mamma mia Che cattiveria Aia Aia Ok Grande Akbar Mi prendo il mezzo cuoricino Sali qua Basta Ok Eliminato Ok Forse ce l'abbiamo fatta Perfetto E C-3PO è arrivato in cima Vai Attiva Quello Amamuna No Allora Quello Quello E quello Dai Amamuna Che naso Ok Ce l'abbiamo fatta Perfetto Abbiamo ricostruito La sequenza vocale Adesso verranno su Anche tutti gli a Cosa c'è di qua? Ah no Non c'è nulla Di particolare Dai Passiamo di qua Perfetto Ma cosa fanno i selfie? Ma non ci credo Vai Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ok ce l'abbiamo fatta Via A tutta velocità Caspita Ah sono gli altri Prigionieri Che stanno inseguendo Gli stormtroopers Ok vai Ehm Vai Perfetto Ok vai BB8 Ok vai BB8 Dagli una bella Scossettina Mamma mia Che potenza Ok Eliminato Fuori due Ce n'è ancora uno qua Ok Ne arrivano tre Mamma mia Ok Perfetto Allora Qui mi serve un Travestimento Caspita Ah ok Allora Questo qua Perfetto Perfetto Ci siamo fatti dare un casco Imperiale Dai sono io Su apri Ok Ok Perfetto Possiamo procedere Qui c'è qualcosa Da sbloccare Ok Non si riesce A incannare Uh Attenzione Mamma mia Che mitraglietta Che c'è lì Vai 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 Mamma mia Ok Quello è andato Vai vai Tiralo giù Quello è il più pericoloso Ok Ok Sta arrivando anche Akbar Vai Akbar Dacci una mano Ne mancano solamente due Uno Ok Perfetto Guarda come ci prende in giro Ok Forse quello sta per esplodere Sì Abbiamo liberato Questo animale Ok Perfetto Ha fatto fuori la mitragliatrice Guarda come corre Perfetto Ce l'abbiamo fatta Questi li facciamo fuori Così Mamma mia Akbar Sul potere speciale Qui c'è qualcosa Ok C'è qualcosa da costruire lì C'è qualcosa da spingere Vai spingi 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 Ok Ok Adesso è attivata Cosa caspita è Ah una specie di ascensore Sì in effetti Stam facendo aerobica Ma quello è Sì È il prigioniero Sta scappando Ho capito però Ma cosa caspita Stam facendo Ok Siamo arrivati Ci sono questi qua Che fanno aerobica Mamma mia Mamma mia Eliminato Ok L'abbiamo rispedito Nell'ascensore Ahia Ok Perfetto Eliminati tutti quanti Dove dobbiamo andare Di qua Aspettate eh Ok Ho preso un sacco di monetine Di qua Di qua Di qua Ok Dai che ce l'abbiamo quasi fatta BB8 Dai su Ok Stiamo scappando Attenzione Kylo Ren Aiai Ci stanno inseguendo Ci distruggerai tutti Boni amici ci aspettano Lì Ok Ci siamo nascosti Aia Ciao Voila Perfetto Attenzione Via 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 Oh Pilotiamo anche L'X-Wing Fantastico No non ci interessano Ma è quel mostro lì Mamma mia Che spettacolo Ok Sto abbattendo Tutti i caccia Che mi si Sparano davanti Che negativo C3PO Ok Ho raccolto Abbastanza Monetine Sembra in parte Cavo E una chance Per seminare Gli inseguitori Non sapevo che In monta la maria Avessimo La coda Diamine Ce l'abbiamo fatta Caspita Pensare Che il mio programma Di calcolo Delle chance Di sopravvivenza Abbia qualche problema Caccia nemici In avvicinamento Attenzione Ok Dobbiamo evitare Che ci colpiscano Ok Per il momento Siamo sopravvissuti Usciamo da qua Sì Fantastico Mamma mia Guardate che roba Quelle creature Stanno distraendo Il primo ordine È l'occasione Per contraattaccare Perfetto Dai Cioè noi due Contro Il primo ordine Bene Devo abbattere 14 astronavi Funziona Quei cacciatai Non sanno Cosa li ha colpiti Beh ragazzi Che ne mancano Solo due Possiamo anche cambiare Comunque E Utilizzare Akbar Ok Ne manca solo uno Ok Facciamo qui Utilizzare Po Per dare il colpo Di grazie All'ultimo Caccia Perfetto Abbattuti Tutti quanti Ce ne sono ancora Un sacco Però Cacciatai Delle forze speciali In arrivo Ammiraglio Eccellente Eccellente Sono armati Di siluri Untali E usa i loro siluri Contro l'asteroide Ok Vediamo se riusciamo a sollevare Un vespaio ancora più grosso Ah eccoli qua Eccoli qua Mira alle rocce Che bloccano quelle gallerie Laggiù Ok E uno è andato Benissimo Se apriamo qualche altra galleria Potremmo svignarcela Nella confusione Perfetto Allora Recuperiamo i proiettili Perfetto Forse ce l'abbiamo fatta Sì Ok Ottimo Mamma mia Che casino Ciao ciao Ok Ah no Eccolo lì Che mi abituerò A tanta eccitazione Ehi Bel braccio nuovo Ma io L'odio E allora Perché continui a metterlo in mostra E' sempre bello Essere notati Ok Ok ce l'abbiamo fatta Gran bella missioncina Gran bella missioncina Perfetto Fu alla riscossa Completato Fantastico livello Livello extra naturalmente Di Lego Star Wars Il risveglio della forza Va bene ragazzi Eccoci tornati Sul Millennium Falcon Abbiamo completato Un altro livello extra Di Lego Star Wars Il risveglio della forza Molto molto interessante E' stato bello Poter utilizzare nuovamente Poe Dameron E rivedere In azione Il L'ammiraglio Akbar Ragazzi direi che possiamo Terminare questo Episodio di Lego Star Wars Il risveglio della forza Qua come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo video Sempre qui sul mio canale YouTube Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.